Scusa una cosa, ma noi siamo partiti da un deserto? Dove cazzo siamo finiti? Siamo sotto il mondo? Siamo in un mondo par... oh mio dio! Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati su Inverbis Virtus. Preparatevi ad un difficile scontro contro il primo vero e proprio boss, il guardiano del portale, che ci condurrà in un nuovo e misterioso mondo magico. Buona visione! Sono già stato qua. Sembra... è uguale a quella stanza che abbiamo trovato lo scorso episodio. Aspetta, forse è proprio quella stanza ma non avevamo i poteri per risolverla. Ok, sembra che qui vogliano dirmi qualcosa. Non ho la più pallidità di cosa tu mi stia dicendo. Perché non c'è un dizionario o qualcosa che mi aiuti? Cos'è? Ah, i vati, mi sono preso un colpo. Aspetta, c'è una runa di comando qui. Tialuda! E... fa... cosa? Non ci ho capito una mazza. Cosa ho fatto? Tutti hanno l'unico mando. Questa ha tipo una bilancia. Oh, adesso c'è la tele cinesi. Obi Kenu. Vediamo. Ah, possiamo far cadere l'acqua. Ok. Probabilmente questo qua serve ad attivare o disattivare l'acqua a seconda della necessità. Probabilmente questa è l'immagine della statua vista sempre da una specifica prospettiva. Oh, questo complica le cose. Questo sembra un 2. Questo sembra un 3. E questo effettivamente sembra un 1. Non ci ho capito una mazza. E noto adesso che sta stato a ben 3 braccia. Ok, allora cerchiamo di seguire un'immagine alla volta. La numero 2... a che altezza deve essere? Beh, ma devo azzeccare proprio l'altezza corretta del braccio? Effettivamente sì. Ah, adesso noto. È diversa. Il numero non indica effettivamente il braccio. Probabilmente il numero di volte che va abbassato. Perché se notate bene, c'è questa specie di mappina che indica a che braccio si riferisce. Quindi il braccio dietro probabilmente va abbassato ben 3 volte con l'acqua. Complicato per niente, eh? Quindi il braccio di sinistra va abbassato una singola volta. E in teoria l'abbiamo fatto prima. Il braccio di destra va abbassato per ben 2 volte. Ok. E l'abbiamo effettivamente abbassato 2 volte. E il braccio di destra va abbassato 3 volte. Obicheno. 2. E quindi 3. In teoria dovrebbe essere quasi corretta. Manca solamente questo una volta. Obicheno. E la soluzione del puzzle dovrebbe essere corretta. Vediamo un po'. Ok. Perfetto. Qualcosa ho fatto. Ah, c'è una runa di comando. Non l'avevo vista. Tialuda. Ok. Aspetta, ma... Cos'è sta roba? Sembra che manchi un oggetto. Oh, finalmente. Dovevo fare solamente Ectolume al centro. E mi ha dato una palla. Cioè, dopo che ho bestemmiato come un turco mi ha dato una palla. Che due palle, gioco! Ma nelle stelle che abbiamo incontrato nell'ultimo periodo non c'era nessuna palla. Quindi probabilmente dobbiamo portarla nella prossima parte del labirinto. Oh no. Questo non sarà facile. Eh, va bene. Obicheno. E te la possiamo tranquillamente portare di sotto. Di certo non possiamo teletrasportarci fin tanto che abbiamo la palla nel nostro inventario. Mobe. Nameth Atul. Eh, ok. Obicheno. Eh, questa ce la portiamo dietro. Per fortuna che c'è il salvataggio da quella parte. Speriamo solo di non incontrare nessuno dei saver. Le saver, come cavolo si chiamano. Perché potrebbero romperci le palle un attimino. Per fortuna che quando traportiamo un oggetto con la tele cinesi, comunque non siamo rallentati dal suo peso. Eh, ok. Comincia la nostra avventura. Io mantengo la solita regola dello stai a sinistra perché è meglio. Buono. Ok. Corriamo veloce, 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 veloce. Eh... Au! Cosa? Dove ti sei bloccata? Perché c'è la magia. Quindi di qua non possiamo andare. Porco cane. Aspetta che mi curo subito. Yegamide. Ok. Da quel lato non possiamo portare la palla. Quindi di destra sicuramente da quest'altra parte. Oh, capito. Dobbiamo portare la palla. Se vi ricordate, qualche episodio fa c'era una stanza con dei pesi. La palla teoricamente bisognerebbe portarla lì. Quindi in teoria non siamo troppo distanti. Ok. Ce la possiamo fare. Obi Kenu. Obi Kenu. Grazie. Non prendimi mai le magie quando sono di fretta. Ok. Velocia, 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 velocia. Ok. Questa volta possiamo andare a destra a questo punto. Perché non guardo mai le cartine quando sono da ste parti? Oh! Oh! Che culo. Era quella di destra. Non è che farla apposta. E mettiamola intanto. Qui. Non mi apri niente, vero? Beh, di sicuro possiamo curarci e salvare. Almeno quello. Iegamide. Ok. È un po' che sto guardando la cartina. In teoria stavolta potremmo tentare di andare da quest'altra parte. Forse non l'abbiamo mai esplorata. La mappa non è utilissima o non è così di facile interpretazione. Eh, giù che muoro di nuovo. No, no. Non per i coglioni. Non per i coglioni. Non per i coglioni. Non per mille palle. Ok. Mi sta seguendo ma non dovrei averte più problemi. Dimmi che c'è una zona. Ok. Qua c'è un'altra zona. Oh, sono mai stato di qui. In teoria non mi sta seguendo lo stronzetto. Perfetto. No, di qua non siamo mai stati. Una runa di comando. Tialuda. No. Tialuda. Grazie caro. Ha aperto la porta. Aspetta, la porta era già aperta. Io. Perché ho l'impressione di essere già stato qui? Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, ci sono stato qualche episodio fa. Oh, adesso la possiamo risolvere. Prima non la potevamo risolvere. Quindi devo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto fino adesso. Ok. Ok. Si può fare. Si può fare. Stavolta la stanza con la palla non è troppo distante. Vediamo se troviamo ancora una volta le indicazioni su come svolgerla. Ah, stavolta è così probabilmente. Quindi se questa parte qui indica la parte in fondo. Va fatto uno. Due. Uno. Sperenbein. Obichenum. Quindi qua. Uno. E dovrebbe scendere ora. Perfetto. Anche qua. Uno. Obichenum. Perfetto. Abbassati. Ottimo. Mentre invece qua dovrebbe essere due volte. Obichenum. Quindi uno. E... Due. In teoria l'ho fatta corretta. Sperenbein. Ma mi sembra che ci sia abbassata più del necessario. Mi... Vabbè, vabbè, vabbè. Questa è andata giù più del necessario. Ma porca. Ehi, stavo esplorando a caso. Guardate cosa ho trovato. Ci possiamo arrivare dall'altra parte. Nameth Atul. Perché ho l'impressione che sono dove non dovrei essere. Che diavolo di posto ho trovato. Oh mio Dio. Non dovrei trovarmi qui, mi sa. Qui c'è qualcosa che non va. Obichenum. Oh, avete visto? Quando ho alzato la prima, si sono alzate anche le altre due. Porco cane, questa non la sapevamo. Quindi succede anche con gli altri. Obichenum. Obichenum. Il secondo è il terzo. E il terzo invece... Obichenum. Falzare solo il terzo. Oh, questa è una bella rottura di palle in effetti. Dobbiamo probabilmente trovare il modo di bloccare uno dei flussi d'acqua. Aspetta, 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 aspetta. Nella stanzina che ero là su prima per botta di culo. In teoria c'era quella piattaforma che faceva su e giusto. Io riesco a bloccarla con qualcosa. Dovremmo essere a posto? Nameth Atul. Basta che io riesca a tornarci per riper botta di culo. Nameth Atul. Vediamo un po' di ripercorrere il tutto. E se la possiamo bloccare siamo a cavallo. Nameth Atul. Ok. Dobbiamo bloccare solamente questa. Obichenum. Aspetta, io provo a bloccarlo mettendogli sopra il vaso. No, devi starmi sopra, bastardo. Vediamo, stai fermo sopra. Perfetto. In teoria adesso non si muove più. Quindi da questa parte non scende più acqua. Però forse dobbiamo far scendere solo la prima volta. Così che anche tutte le altre volte che si attiva non dovrebbe essere un problema. Quindi la prima volta deve scendere e le altre volte no. Ok, perfetto. E ok, adesso che sono resettati in teoria dovremmo poterlo fare correttamente. Quindi attiviamo la prima una volta. Obichenum. Ok. Mi guardo dovremmo scendere tutti di uno. Molla. Perfetto. Ora devo andare su e bloccare quel cavolo di passaggio. Ok. Ora che è bloccato torniamo indietro. Nameth Atul. Mike lo piglia la prima volta. Nameth Atul. Molto gentilo. Nameth Atul. Perfetto. Quindi ora se attivo il centrale. L'acqua scenderà solo sul centrale che era da due volte. Due volte. Perfetto. Sperenbe. Obichenum. Vai. Quello di là non può far passare acqua. Ok. Perfetto. Ora si dovrebbe aprire. Oh mio Dio. I porchi. Ectolume. E dovremmo avere anche questa palla. No davvero? Questo. Che c'era pure l'inghippone. Non me l'aspettavo. Ed eccola qui. Quindi la possiamo riportare. Da dove venivamo? La rottura di maroni. Che dovremmo evitare il signore. Ma la corsetta è abbastanza breve. Oh. Mi sono ricordato adesso che non mi ero curato prima. Forse ero a far tutto in un salto. Buongiorno. Salve. Non compro niente. Velocio. Più velocio. Più velocio. Che il signore è proprio dietro. Più velocio. Ok. Salvi. E abbiamo la seconda delle tre palle. Erano tre. Erano due. Non mi ricordo nemmeno io. Ah erano tre. Ti pareva troppo bello che fossero solo due. E voilà. No. Non cadere. Brava ciccia. Allora. Le due sfere le abbiamo. Il problema è che ce ne serve una terza. E non credo ci sia un terzo passaggio. Se solo potessi teletraffrontarmi là sopra. C'è. Che mi sfraccellerei tipo al suolo. Aspè. 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 Però in effetti lui ci c'è le sfere di metterle qua. Il terzo peso potrei essere io. Uh. È una buona idea. Ok. Se io metto praticamente l'altra sfera qui. E metto me stesso sopra. Dovevo mostrare un po'. Oh. Ma porca di quella porca. Aspetta un attimo. Questo è un viaggio di non ritorno. Perché nel momento in cui mi teletrapporto di là. Non potrò tornare indietro. Queste due non credo si muovano. Obi Kenu. No. Inammovibili. Se no avrei avuto un modo per chiudere la porta. Eh. Vabbè. Bisogna andare dall'altra parte. Namet Atul. Ed eccomi qua. Ok. Almeno siamo dall'altra parte. Ma. Quanto pare non potremo tornare nell'abirinto del dolore. Oh. Non che mi manchi quel posto. Porco cane. Finalmente siamo usciti. Perché ho l'impressione che finiremmo in un posto addirittura peggiore. Oh. E fino ad adesso abbiamo incontrato zone una più diversa da quell'altra. Davvero per essere un gioco sviluppato in Italia abbiamo fatto un signor lavoro. Oh ragazzi. Orgoglio italiano. Aia. No. Questo non è per niente un buon indicatore. Buon salve. Potete non uccidermi malo malo. Ok. Lo prendo come un forse ma non ti faccio promesse. Ok. Si sta aprendo la porta. 8 milioni di meccanismi di chiusura. Wow. Buongiornissimo. No vabbè. Ragazzi ma. Chi ha sviluppato sti livelli? So che lo dico dall'inizio del gioco. Ha fatto un signor lavoro. Come? Sento rumore di aria. Siamo fuori? Non siamo ancora fuori. E ci tengo a rivedere un piccolo concetto. Come cacchio hanno sviluppato sti posti. Allora. Ci sono delle fonti d'acqua. Ancora quelle cavolo di maschere. Però non possiamo buttarci all'interno per curarci. Questa è una gran rottura di balle. Ma per adesso almeno siamo a postissimo ragazzi. Che spettacolo di posticino. Guardate. È meraviglioso. Mezzo punticino di salvataggio. Se non chiedo troppo. Oh. Oh. Acqua. Santissima acqua. Quanto mi piace. Vuol dire che mi posso curare. Guarda. Che spettacolo. Sculture di cristallo abbastanza strane. E una piattaforma che mi porterà in cima. Diamo solo un'occhiata qua sotto per vedere se c'è qualcosa. E poi possiamo partire all'avventura. Quanta gioia. Finirò morto malo malo. E qui cosa c'è? Buon. Sa. Sa. Salve. Oh mio Dio. Ho trovato un precipizzo. Aspetta che non ci fico di sotto come un povero imbecille. Eh. Ok. Eh. Vabbè. Ma io come c'arrivo? Alla dovevo teletrasportarmi. Piatto secondo. Buono. Ho detto buono e mi ha teletrasportato. Non so perché. Ho detto buono. Buono. No. No. Funziona. I casi della vita. Mmm. Però non ho la runa di comando per attivarla. E quello è ghiaccio? Come cavolo fa esistere del ghiaccio qui? Cioè potessimo andare tipo là sopra. Na metatool. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se qua sopra a questo punto c'è qualcosa. Percuriamo tutta la zona. La ricerca. Io eventualmente una runa di comando. Ah. Non c'è. Ah. Eccola qua. Non era una runa di comando. È un coso strano. Tialuda. Ok. E effettivamente si è attivata quella. Ok. Na metatool. Sì però se aspetti un secondo ciccio. Devi aspettarmi un secondo. Na metatool. Oh ce l'ho fatta. Incredibile. Devi proprio puntargli l'angolino. E allora te lo accetta. Quindi. Na metatool. Na metatool. Ok. Ottimo. 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 Wow. Che posto fantastico. Non si stanno creando sti sviluppatori. Davvero. Non vedevo un gioco sviluppato in questo modo. Da una vita onestamente. La qualità e il livello di dettagli è qualcosa di incredibile. Buongiorno. Poi che non finisco di sotto. Cos'è? Il gioco mi è bloccato. Che succede? Che succede? Wow wow wow. No no no. Non ti addormentare adesso. Che succede? Buongiorno. Dove mi portate stavolta? C'è di nuovo la signorina ignuda? No. L'ultima signorina era molto più ignuda e carina. Boom salve. Lei decisamente non è la signorina ignuda. Ah salve. No 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 no. Non compro nulla. Che diavolo sta succedendo? Dove diavolo siamo? Ah ma è la signorina ignuda. Cacchio mi scusi. Mi si compare come scheletro. Salve. Ho capito. Ma per quell'appuntamento di cui parlavamo? Mm mm mm. Ah finalmente si ottiene una tetta. Un po' di tetta la voglio. Ah un'altra magia. Munio Namet. Cosa mi ha fatto prendere signorina? Oh scudo. Scudo è molto buono. E mi protegge dalle minacce di natura magica. Posso scagliare l'energia che essa cattura nella direzione che voglio con la formula Atul Ecto. Ma da 8.000 magie non me le ricorderò mai. Però questo è molto tanto tanto utile. Munio Namet. Atul Ecto? Atul Ecto. Grazie signorina. Molto gentila. Avete vedete? Sembra quando fate quei corsi di lingue straniere che dovete ripetere le cose. Mi sa che quella tetta non la otterremo mai eh. Buongiorno. Ok no. Mi si addormenta di nuovo il ciccio. Mi si sta addormentando. No no. Si è svegliato. Dai che forse ci danno qualche informazione sul passato di sto posto. Il caos si destò. E nacque ero pianeti e popoli. Egli creò tre emissari per guidare il creato. I pellegrini venivano allo zenith. Cuore della creazione. Da ogni luogo. E fu un'epoca di meraviglie. Ma ora è un ricordo lontano. Perfino i fiori più belli appassiscono. Aia sta cambiando il colore. I popoli stanno corrompendo lo zenith. E uccidendo la creazione. Quindi questo è effettivamente un tempio sacro. Pellegrino. Il tuo viaggio sarà finito. Quando spezzerai il legame che li unisce. Ah non mi sembra una buona cosa signorina. Distruggendo il portale dello zenith. Sento una grande forza arrivare. Dovrai essere forte. Ok. Oh mio dio. No 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 no. Male. Tanto tanto male. Quello non promette nulla di buono. Io mi nascondo dietro un angolino. Facciamo finta che non esisto. Porco cane. Cosa sta arrivando? Cos'è arrivato? Cos'è quello? Oh cacchio. No non compro niente. Non mi rompo le palle. Non compro niente. Oddio come si chiamano le nuove magie. Guarda che bastardo. Spara. Ok usiamo lo scudo. Munion a me. Ok. Adesso ho il mio scudo abilitato. Non so per quanto mi protegge effettivamente. Salve. Para para tutto. Para tutto. Ok. 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 Mi ha parato tutti i colpi. Perfetto. Non so quanto due lo scudo. Ecco non dura molto. Ok di quella porca. Io me ne sto qua dietro nascosto per adesso. Mi prende comunque bastardo. In teoria io posso quindi assorbire i suoi colpi. Perfetto. E risparaglieli con... A tu letto. Oh la madonna non lo piglierò mai. Non lo piglierò mai 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 mai. Ok. E ora... Li ho presi tutti. A tu letto. No. Ha mancato di poco. A tu letto. Oh. L'ho preso. Con uno l'ho preso. Con uno l'ho preso. Perfetto. Ok. Sembra che sia ferito effettivamente. Lo dovremo probabilmente colpire più di qualche volta. Ok. Ci dobbiamo ripigliare un po' di vita. Iega Mide. Buono. Non è male. Questo è un buon punto effettivamente. Oh oh oh. No. Non spari a tua madre ciccio. Preso. Preso una seconda volta. No 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 no. Muni una me. Ok. Adesso è bello lentino a quanto pare. Maledetto rompi i coglioni. Vediamo se hai ricopigliato. A tu letto. Vai. 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 Un bastardo l'ha schivato comunque. Ehi. Dove è andato? Dove è andato? Che ci fa... È sparito. Che ci fa là sotto? Oh. Si è curato il bastardo. Si è curato. Era sotto la piattaforma per il teletrasporto. Come diavolo lo freghiamo? Dobbiamo buttargli all'addosso tipo. Il problema è che aveva tipo uno scudo. Quindi devo prevenire meglio che curare. Vediamo se ti punti qua sotto. A tu l'agni. Se io gliela lascio... Li ferma. Aio. Direttamente quando lui va per curarsi lo posso attaccare. Perché ci dobbiamo anche curare un attimino. Iega Mide. Questo è il primo boss vero e proprio che stiamo affrontando. Ecco fatto. Effettivamente quando lo cercate abbastanza lui emette un campo di elettricità che forse possiamo usare contro di lui. Oh oh. A tu l'exo. Vai 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 vai. Sotto l'ho preso. Sì. Perfetto. 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 Ok. Ok. Vediamo se va di sotto di nuovo. È di sotto. Udano Tem. Beccato. Beccato bastardo. Stavolta non mi hai fregato. Oh. Madonna. Si è stato difficile. Ci ho messo 20 minuti a farlo fuori. Forse anche di più. Ma 20 minuti tutti. Bastardo schifoso. Dimmi che questo mi ha sbloccato qualcosa. Forse ci ha sbloccato l'accesso per la parte bassa. Oh. I boss sono stronzi da ste parti. Bello Iega Mide qua. Iega Mide. Ok. Facciamo. Non posso rimanere qui. Tipo la quetta è calda. Tranquilla. Ci ho fatto un po' la pipì dentro. Ma vabbè. No eh. Mi sa che dobbiamo procedere. A quanto pare dobbiamo salvare il mondo. Ma che due maroni. Eh vabbè dai. Una metatool. Ah. Ah mi stai per buttare di sotto pezzo di merda. Una metatool. Ok. Una metatool. No. Gioco. Una metatool. Bravo ciccio. Ok. Siamo di nuovo sotto. Io però un checkpointino lo vorrei. Un punto di salvataggio. Non mi stai dando niente. Oh. Buongiorno. Il portalo non c'era prima. Che facciamo ovviamente? Ecco. Come tutte le persone sale di mente. Mi ci butto ovviamente. Perché no? Porca boia. Il boss è stato un parto trigemino. Le varie morti voi non l'avete neanche vista. Sono caduto di sotto un paio di volte. Mi ha ucciso lui una. Cazzate varie. Lasciamo stare. Poi non dire tutte le volte che l'ho mancato. Oh. Buongiolo. Dove andiamo stavolta? Dove? Dove siamo? Oh. Ok. Dove sto precipitando? Ciccio guarda verso il basso. Non guarda verso l'alto. Cerchiamo di capire verso dove stiamo precipitando. Male. Molto male. Molto male. Ok. Siamo tipo un portale che ci ha rallentato. Ok. Ok. Ci sono dei campi di magia che stanno tutendo la caduta. Oh. Oh. Oh mio Dio. Scusa una cosa. Ma noi siamo partiti da un deserto. Dove cazzo siamo finiti? Siamo sotto il mondo? Siamo in un mondo par... Oh mio Dio. Ho la vaghissima impressione che non siamo più nel mondo di prima eh. Giusto un po' sul pianeta Terra non mi ricordavo così tanti pianeti. E il pavimento a spunzoni. Ah e potevo anche cadere ancora più di sotto. Facciamo di no. Facciamo di no e facciamo che andiamo di qua. Wow. Sto posto è fantastico. Perché non cado di sotto come un povero pirla ma sto posto è fantastico. Guardate che lavoro. Mi sto anche accecando di brutto. Ma è bellissimo. Pochi giochi riescono a stupirmi ad ogni passo ma Inverbis Virtus sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo lasciato il vecchio tempio e ci troviamo in un nuovo mondo ma molti puzzle e pericolosi nemici ci sbareranno la strada prima della fine. Quindi anche per questo episodio di Inverbis Virtus è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete i video su Facebook per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao.